Vuoi vivere l'esperienza di un viaggio a piedi con il massimo comfort? Scopri come funzionano i nostri viaggi a piedi Solo & Friends. I viaggi Solo & Friends offrono esperienze uniche che ti permettono di esplorare il mondo a piedi in completa autonomia e secondo le tue preferenze. Decini tu il ritmo, le tappe e le soste. Non sei vincolato dagli orari di un gruppo o dalle esigenze degli altri. Questa libertà ti permette di vivere un'esperienza autentica e personale con il massimo della flessibilità. Ogni viaggio è organizzato su misura per te senza gruppi o accompagnatori. Visita il nostro sito web www.piediperilmundo.com per scoprire tutte le destinazioni e le proposte di viaggio. Consulta l'itinerario, le tappe e i chilometri da percorrere. Verifica i costi e la tipologia di struttura in cui per notare. Selezioniamo sempre le migliori strutture ricettive lungo il percorso, centrali e vicine a bar, ristorante e altri servizi. Ogni viaggio può essere arricchito con servizi aggiuntivi personalizzabili in base alle tue esigenze. Il primo passo è compilare il modulo per richiedere il preventivo. Un nostro travel designer ti contatterà tramite telefono o email. Potrai concordare un appuntamento telefonico nel giorno e orario che preferisci. Se non sei sicuro di quale cammino sia più adatto a te, il tuo consulente dedicato sarà felice di aiutarti. Alla fine della telefonata riceverai un programma dettagliato e un preventivo con tutti i servizi richiesti. Dopo la tua valutazione potrai procedere con la prenotazione versando la quota di via pratica tramite carta di credito seguendo le istruzioni fornite del tuo consulente di viaggio. Il tuo consulente dedicato inizierà a costruire il viaggio richiedendo disponibilità e prenotando tutti gli alloggi e i servizi. Una volta completato dovrai compilare un modulo e con i dati che fornirai creeremo il contratto di viaggio che riceverai via mail e potrai firmare direttamente online. Una volta firmato il contratto dovrai versare un acconto del 30% e il 100% dei voli se inclusi. Inoltre riceverai una mail con tutti i tutorial tips e tricks per rispondere alle domande che potrebbero sorgerti dopo aver prenotato. 30 giorni prima della partenza una volta effettuato il saldo riceverai a casa tramite corriere una gift box con molte sorprese e una miniatura personalizzata che dettaglia ogni aspetto del tuo viaggio. Chilometri da percorrere, tappe, alloggi e tutte le informazioni necessarie per vivere senza pensieri il tuo viaggio a piedi. Avrai inoltre la nostra assistenza 24 ore 7 giorni su 7 durante il viaggio. Abbiamo già percorso i vari cammini per te, ora goditi ogni passo senza pensieri. Scopri il comfort di un viaggio a piedi solo in France a piedi per il mondo. Prenota il tuo viaggio oggi e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile.